Buonasera Chiedo scusa per i baffi ma sto girando un documentario sul Messico per Alberto Angela Ma oggi parliamo di come l'informazione e l'entertainment ti spiattellano lo storytelling contemporaneo che funge da punto di ancoraggio per tenerti legato al palo come un somaro che scruta un orizzonte grigio Lo so, come titolo è un po' lunghino ma andiamo con ordine Ho qua un modellino A me Bruno Vespa mi fa una pippa Questa specie di tricolore gaussiano rappresenta una qualsiasi società capitalistica contemporanea che oscilla dal rango più infimo dei poveracci al rango più alto dei magnaschei con un 25% di gente che sta bene, un 25% di gente che sta male e un 50% di gente che si barca a mena Diciamo che è gente che campa ma se dovesse comprare, che so, una gru oppure la morte nera non riuscirebbe a pagare sull'unghia Ovviamente la curva disegna bene la realtà ma noi le percentuali le abbiamo fatte un po' come un orafo ubriaco sono approssimative Per esempio in questo 25% di gente che sta bene c'è un 2% di gente che se la passa benissimo e poi lo vedete questo triangolino qua più verde del resto è il 10% che si spartisce il 90% delle risorse mettiamo che questa società disponga di 100 miliardi ecco 90 miliardi andrebbero al triangolino verde mentre gli altri 10 si spartirebbero a scalare per tutti gli altri Questi sono freddi numeri non tengono conto né della felicità né dell'insoddisfazione Lo so che il telegiornale ti dice che ci sono 20 milioni di poveri ma se tu sei un possessore del Samsung Sborons 614 e non dormi la notte perché non puoi permetterti il Samsung Sborons 615 non sei povero, sei mona così come se tu sei il possessore dell'isola di Pantelleria hai 400 milioni in banca e usi l'auto a noleggio con conducente per andare al bar a farti un spritz al select non me ne frega niente che non hai l'amore vai a puttane e i soldi ce li hai ma non rompere i coglioni alla gente che lavora in questo 25% qua di gente che sta bene e che abita idealmente a Paradise City ci sono tutti i capi delle grandi aziende e delle nazioni che è un po' la stessa roba ma questi qua devono riuscire a convincere tutti gli altri immagina di avere un prosciutto da 30 chili e sei in una stanza chiusa con tre energumeni come fai a convincerli che tu ti tieni il 90% e loro si spartiscono il 10% si vede a occhio che hai vita breve su chi deve contare questo 25% per continuare a stare in sella ovviamente questi qua fanno già fatica a pensare a se stessi chi è che regge sul groppone l'intera società questo 50% qua il panettone e per stare in sella bisogna convincere il panettone come si fa? si fa attraverso una storia bisogna creare un racconto che faccia oscillare il panettone tra la speranza di andare ad abitare a Paradise City e la paura di finire a Inferno City se noi pensiamo al passato quando il racconto del quotidiano era scritto dalla chiesa e la gente viveva nella paura di andare all'inferno e nella speranza di andare al paradiso ognuno stava al suo posto bastava uno psicopatico qualsiasi con una conchiglia sul pacco e un manipolo di uomini armati per tenere in scacco un'intera città oggi sembra che non sia così ma in realtà le cose sono uguali semplicemente lo storytelling non lo fa più il pretaccio maledetto ma il filosofo commerciale dei nostri tempi quando tu hai i soldi puoi raccontare un sacco di storie al panettone attraverso i tuoi giornali le tue televisioni i tuoi anchorman attraverso gli uomini che sparpagli per la rete con la tuta mimetica del tizio di passaggio la storia ovviamente è quella che deve fare oscillare il panettone tra la speranza e la paura e i bracci armati di questo sono l'informazione e l'entertainment che si sono spartiti i compiti infatti l'informazione fa passare paura, insicurezza, disorientamento e odio mentre l'entertainment fa passare consolazione, speranza e fatalismo come fa l'informazione a far passare paura e insicurezza fa così e arriveremo noi da voi in Italia ci troverete là a Roma e nelle altre città influenza se devo essere sincera ha decimato proprio tutti in famiglia ora bisogna solo aspettare e sperare che le piogge finiscano ma le previsioni per i prossimi giorni non sono assolutamente confortanti ora ci si mette anche Zika il virus trasmesso da una zanzara dell'America centro-meridionale ed è allerta caldo in diverse città italiane a Firenze ad esempio sono previsti fino a 39 gradi con oltre 5 milioni di contagi 219 casi gravi e 53 anziani deceduti e adesso parliamo di allarme Vesuvio perché è stata stabilita la nuova zona russa in varie regioni è stato superato il valore di soglia di 2,37 casi per mille assistiti sono le incredibili immagini che vi mostriamo in esclusiva di uno dei colpi messi a segno dalla banda il lupo in Lessinia continua a mietere vittime dall'inizio dell'anno i capi uccisi sono stati 64 ciò che i ragazzini sottovalutano però sono le conseguenze talora gravi provocate da uno spinello che può addirittura condurre a stati di overdose tra i possibili obiettivi ci sarebbero ovviamente le grandi città è stato esteso un allarme climatico dalla regione Veneto tempo fa ho visto un cane scappare da un troppo i cinghiali sono ormai dappertutto e come fa l'informazione a far passare disorientamento e odio reciproco fa così il discorso si è tenuto il dibattito sui modelli di famiglia organizzato da Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale intitolato Maschio e Femmina Li Creò fidarsi o non fidarsi delle badanti se voi Yolanda la porta sta là puoi anche andare via se non sei d'accordo ma non era chiaro perché non capite un cazzo voi Luciani col salame che non seguivano è un ex di Forza Nuova l'anno scorso a Matrix qui è venuto un animalista ex di Forza Nuova anche lui è pieno di ex estremisti io non mi sono vantata di aver bruciato quelle tagliere capisce con quella canicina rosa da finocchio quale sei sinocchietta quarta rita sorella io ho detto solo poco corretto tu mi hai detto limitato e mi hai offeso e rilaborì diceva che un animale frustrato se può lottare contro un altro animale si sentirà meglio dai un nemico a un frustrato e subito si sentirà meglio ma quando uno è sconfitto gli devi dare consolazione e allora come fa l'entertainment a dare consolazione? fa così va bene Marx c'è l'ho non ho sentito Marx 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 è un filosofo ah Marx no banca banca proprio banca pensate che durante il Believe Tour ha sputtato dal balcone di un albergo a Toronto in testa ai suoi fan Francesco mi pare lo smargiasso ecco piuttosto dimmi un po' di la verità l'hai scritto tu questo cartello? la canalis si è mostrata ancora una volta con un fisico mozzafiato e curve al punto giusto sono due bresani porca voi oh mostra ecc è sembi è occhi oggi da antipasti e fascismo io spettatore insoddisfatto come una teenager che ha sposato un novantenne potrei incazzarmi aver voglia di spaccare tutto di ribaltare gli alberi come un elefante arrabbiato come sgarbi con la prostata che fa la ola allora l'entertainment mi placa con una consolazione io vedo la satira che prende in giro i potenti vedo il gossip che denuda i famosi e mi consolo di non contare un cazzo nella vita ma l'entertainment deve trasmettermi anche la speranza di entrare dentro il 25 per cento e come lo fa lo fa così se risponderete esattamente nei tre minuti a tutte e 15 le nostre domande per voi sono pronti 415 mila euro la cifra che carla ha formulato guardando il tabellone valutando i 5 mila euro i 250 mila euro i 500 mila euro e 160 mila euro la tale ha letto la quindicesima domanda da un milione di euro tutti i giochi in cui c'è in palio del denaro in cui c'è un grosso premio alla fine creano una suspense con una musica che è quella del thriller è la musica del crime c'è sotto un crimine questa cosa ti emoziona ma nel contempo ti consoli perché se non sei tu a giocare direttamente col tuo telecomando con l'SMS puoi contribuire a fare andare su un disgraziato a far andare giù un poveraccio e così hai questo momentaneo delirio di onnipotenza non potendo cambiare la tua vita di merda contribuisci a cambiare quella degli altri perché lo scopo di quelli del panettone è scappare dal panettone pensa quei reality dove uno sta in una casa 24 ore al giorno insieme a altre 10 persone pensa quei reality dove uno sta in un'isola in mezzo alle bestie tremende e deve campare deve riuscire a sopravvivere ecco qual è la punizione più grande per chi perde in quei giochi lì quella di tornare a casa sua quella è la punizione tornare a casa tua nessuno vuol tornare nel panettone tutti preferiti ma molto meglio stare in una casa con 24 psicopatici che cantano dalla mattina alla sera e sparano cagate molto meglio stare nell'isola insieme coi tafani piuttosto che tornare nella glassa del panettone una volta c'era il totocalcio dovevi indovinare 13 risultati se li indovinavi tutti vincevi dei soldi anche molti soldi che investivi in dei capannoni e dopo quattro anni fallivi perché non sapevi un cazzo di capannoni il totocalcio c'era solo la domenica il giorno del signore e delle botte di culo ciao i numeri quando hai i numeri giusti coglili al volo la scorsa settimana mi son giocato l'uno e l'esperienza di gioco online più fluida di sempre adesso i campionati di calcio sono spalmati durante tutta la settimana non c'è giorno della settimana che non si salvi dalla telecronaca di uno psicopatico esagitato e tu col tuo telecomando con l'sms puoi scommettere puoi scommettere non solo sulle partite puoi scommettere sul primo tempo sul secondo tempo su chi segna di più su chi segna di meno le scommesse sono spalmate e tu ogni momento della tua vita puoi cedere al fatalismo una volta entravi in un bar e bevevi per dimenticare di essere una nullità era un altro storytelling oggi entri in un bar con la speranza di trovare una chiave dorata che ti faccia uscire dalla gabbia della sfiga maledetta e questa chiave si trova ben nascosta e introvabile dentro delle macchine luminescenti e belle quasi tutti i bar hanno le slot machine anzi qualcuno dice che faticherebbe a campare senza cari baristi che dite che senza slot machine non riuscireste a tirare avanti deve essere una bella soddisfazione mantenere la propria famiglia portando via gli spiccioli a dei disperati e così gli autori dello storytelling contemporaneo ti drogano e ti cullano come un bambino fra la speranza e la paura e tu dondoli contento e ti addormenti nell'allucinazione e se qualcuno da questo 25 per cento dice mi raccomando bisogna stare tutti uniti tu gridi che ha ragione e diventa il tuo guru e fai il tifo per lui e ascolti quel che dice e non ti accorgi che lo dice dall'estero buonasera epiteto diceva se vorrai allo stesso tempo crescere dentro e avere reputazione e ricchezze è possibile che non otterrai nulla perché la reputazione e le ricchezze dipendono dalla fortuna e dall'opinione degli altri solo attraverso l'accrescimento di se stessi si può godere beatitudine e libertà pertanto abituati a dire di fronte alle apparenze che ti capitano davanti questa è un'apparenza e non è quello che sembra di essere che è un'apparenza e non è quello che sembra di essere che è un'apparenza e non è quello che sembra di essere